musica 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 ok siamo qui con F.C. Bomboniera bene partita abbastanza difficile all'inizio avete fatto fatica poi alla fine siete riusciti a prendere il largo e vincere la 6 a 3 cosa mi puoi dire della prestazione di oggi? buona perché è una diretta concorrente per i playoff e questa vittoria ci tiene ancora attaccata qui abbiamo fatto una buona partita perché venivamo una sconfitta pesante e abbiamo reagito qui beh primo tempo difficile secondo invece un po' più liscio sì perché sono 5 squadra città vabbè dai comunque siamo contenti perché dopo 7 a 0 poi vedranno insomma anche moralmente è stata pesante abbiamo fatto una brutta partita invece oggi bene o male ci siamo ripetati vi siete rifatti oggi allora? sì no perché era uno scontro diretto va bene allora ti ringrazio moltissimo ci vedremo la prossima ciao 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 ciao